Finisce al tiebreak una partita che non le voleva sapere di finire, avete fatto di tutto per vincerla prima, non siete riusciti, siete andati avanti, siete stati recuperati due volte, alla fine però nel tiebreak siete riusciti a portarla a casa. Siete contenti? Beh, ovviamente siamo contenti perché siamo una squadra super mega fortissima e quindi ci vogliamo tanto bene, a parte gli scherzi siamo molto contenti per questo percorso, per la partita di stasera. Siamo riusciti a portare a casa la Vittoria. Seconda Vittoria in questo primaverile, siete contenti? Non lo sapevate neanche voi. Come avete affrontato questo primaverile? Deve essere un modo per conoscervi, magari per lavorare per l'invernale oppure volete mettervi in gioco? Cosa pensate di fare in questo campionato? Ma allora, il primaverile quest'anno sta andando così così rispetto al campionato invernale, ci eravamo dati degli obiettivi un po' più alti. Per noi questo è per provare a creare delle situazioni nuove, soprattutto con nuovi arrivati e quindi per noi è una sorta di preparazione all'invernale dell'anno prossimo. Siamo stati in categoria e siamo felicissimi. Esattamente. Insomma, in bocca al lupo per l'anno prossimo e per questo finale di campionato. Grazie, grazie.